la fenice è un uccello della mitologia capace di resuscitare dalle proprie ceneri ed è un simbolo di immortalità ed eternità è presente in molte culture ma pare che gli antichi egizi fossero i primi a parlare di una creatura del genere il bennu era infatti un uccello consacrato al dio ra nella mitologia greca invece la fenice era simile ad un'aquila reale dal bellissimo piumaggio nella concezione moderna la fenice è un maestoso uccello dalla forma di rapace con un piumaggio rosso oro infuocato le culture che parlano di questa creatura sono moltissime e in comune c'è quasi sempre la correlazione con le fiamme e la resurrezione la famosa araba fenice viveva per 500 anni per poi bruciare in un nido e resuscitare sotto forma di una nuova fenice la fenice della mitologia cinese invece feng huang simboleggia la dualità cosmica il famoso yin e yang è un po' di 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 un po' di